Ottima annata per i produttori di olio della Valle Peligna, mentre in quasi tutte le altre zone della penisola si registra una netta flessione nella produzione, nel comprensorio Peligno si parla di un aumento di oltre il 30% con una qualità del prodotto in linea con le migliori annate. Come spiega il pluripremiato Marcello della Valle che con il suo olio da anni delizia il palato dei cultori sopraffini della cucina ed è scelto dai migliori chef italiani per la preparazione dei piatti gourmet. Fortunatamente la crisi che ha colpito l'uva e quindi il vino non si è avuta nel settore dell'olio, spiega della Valle. Di olive ce ne sono in abbondanza e di ottima qualità, per cui la Valle Peligna si pone in controtendenza. Per quanto riguarda la qualità del prodotto si parla di un 30-35% in più rispetto alla scorsa stagione.